E ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Oggi volevo, siccome me l'avete chiesto in tanti, spiegarvi come ho fatto nell'ultimo video a non usare il green screen per eliminare lo sfondo, ma ho usato un altro metodo. Come molti di voi sapranno, ho acquistato una RTX 3080 e posso finalmente usufruire di un software molto ma molto utile che si chiama l'NVIDIA Broadcast. Questo è un software gratuito che si può scaricare direttamente da Google cercando NVIDIA Broadcast e funziona però solo dalla RTX 2060 in poi. So che molti di voi magari non ancora hanno trovato la scheda video a disposizione ad un prezzo umano, però io intanto vi spiego come funziona. Andiamo ora a vedere il software. Eccolo qui. Come potete vedere abbiamo tre schermate principali, microfono, altoparlanti e videocamera beta. Il microfono già lo sto utilizzando perché questo software con l'intelligenza artificiale riesce ad eliminare il rumore di ecoambientale e la rimozione proprio del rumore. Io dietro le mie spalle ho il condizionatore completamente a palla e come potete notare non si dovrebbe per niente sentire. Giusto? Andando ora a disabilitare la rimozione del rumore potremmo accorgerci di un leggero fastidio per caricare. Io dalla barra audio sotto vedo molto movimento quindi in teoria lo sentite. Andiamola ora a riattivare. E in effetti il rumore è sparito. Andando ora a controllare le varie schermate sul microfono abbiamo solo questi due tipi di effetti. Non possiamo avere altro. Andando ora alla schermata altoparlanti potremo andare a selezionare tramite il menu a tendina quale tipo di periferica audio andare a utilizzare. In questo caso io utilizzo la mia uscita ottica con le casse Dolby Surround e possiamo andare a togliere il rumore anche dall'uscita audio. Io normalmente non lo utilizzo perché comunque non ho necessità. Possiamo anche andare ad aggiungere il rumore ecoambiente da parte degli altri utenti che magari sentiamo durante le streaming. Andando ora alla parte più bella e più interessante di questa intelligenza artificiale. Proviamo le impostazioni importanti della webcam. Ora sono tutte completamente disattivate. Abbiamo la sostituzione sfondo che io posso tranquillamente andare a attivare e come vedete mi crea un green screen in automatico senza che io abbia niente perché magari non voglio far vedere lo sfondo in penose condizioni della mia stanza. Oppure possiamo ancora andare a rimuovere lo sfondo che diventerà nero perché nell'altra opzione ragazzi noi possiamo andare a scegliere dentro le cartelle quello che vogliamo andare a mettere. Quindi prendiamo una foto e la mettiamo. Oppure abbiamo rimozione del disturbo video che quindi va a migliorare ancora di più l'immagine estetica. Quindi vi dà un effetto bellezza mettiamola così. Oppure abbiamo lo sfocasfondo. Si può regolare in diversi modi da un'intensità minima a un'intensità comunque massima. Come potete vedere lo sfondo diventa completamente sfocato e dietro le mie spalle praticamente non si capisce quasi nulla. Possiamo impostare sia su prestazioni che su qualità. Io preferisco la qualità perché il computer fortunatamente regge. E un'altra impostazione molto molto carina è l'inquadratura automatica. Andando a spuntare questa inquadratura possiamo decidere di zoomare ancora di più l'immagine o allargarla un po'. Cerchiamo di metterla una via di mezzo e se io vado a spostare la testa il software in automatico cercherà sempre di tenerla centrata. Io in abbinamento per chi magari fa streaming con i giochi metterei una rimozione dello sfondo e un'inquadratura automatica in modo tale che quando si gioca possiamo mettere il nostro bel faccione sulla schermata del gioco e non avere tutta la cornice intorno. Questo software va benissimo sia con OBS come lo sto usando ora io. Possiamo utilizzarlo tranquillamente con i software streaming di Twitch. Lo possiamo utilizzare anche con zoom con tutti i vari software di chat quindi anche per magari una conference call di lavoro e direi che è una cosa molto ma molto interessante. Io spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto se è stato così mettete un bel like magari a fine video commentate visto che è fine video quindi vi potete affaticare con quelle cavolo di manine e ci vediamo alla prossima ciao